La sicurezza sul luogo di lavoro nella provincia di Lecce è stato questo il focus del convegno ospitato nel Palazzo della Prefettura, tema che, come sottolineato dal Prefetto del Capoluogo Salentino Su'Eccellenza Luca Rotondi, è particolarmente sentito dalle parti coinvolte. Sì, oggi è una riunione importante, abbiamo coinvolto tutti gli enti locali della provincia, abbiamo la presenza soprattutto dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Inps, delle strutture che tutelano i lavoratori sui cantieri. Parliamo di appalti, parliamo di appalti pubblici e in particolare il focus è sulle cooperative, perché le cooperative, come sappiamo, hanno un ruolo molto importante, è un ruolo che dovrebbe tutelare i lavoratori. In alcune occasioni, tuttavia, si riveva che lo strumento della cooperativa non è correttamente utilizzato. Quali sono le azioni concrete che devono essere messe in atto? Si è parlato molto della possibilità di un atto di indirizzo, di cui stiamo sviluppando le linee che sarà presentato proprio nella giornata odierna, in base alla quale le stazioni appaltanti pongano particolare attenzione al fatto che venga rispettato il contratto collettivo maggiormente rappresentativo in modo che ai lavoratori vengano offerte condizioni di lavoro adeguate e soprattutto si tenga molto conto delle spese per la sicurezza.